Professor Galli, oggi l'allenatore della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini, ha pubblicato sui suoi social questa vignetta che vediamo adesso a tutto schermo. Si vede un malato di Covid che dice di averlo preso guardando i TG. Vuole commentare? Ma anche no, nel senso che purtroppo se si facesse un giro per i nostri reparti si rende conto che di persone con malattia grave ce ne sono già parecchie e che certamente non hanno presa guardando i TG. Ecco, questa è l'unica risposta che si può dare a qualsiasi vignetta di questo genere. Mettiamola così senza far polemiche, nel momento attuale quello che va fatto è capire come stanno le cose, cercare di proteggersi, cercare di star fuori dai guai e possibilmente non farlo contrapponendosi ma cercare di farlo tutti insieme. Facciamo insieme, facciamo insieme una cosa separatamente l'uno dall'altro per evitare appunto di contagiarsi il più possibile. Gioco di parole pessimo, vale quasi la pessima vignetta che mi ha fatto vedere ma rende l'idea. Grazie.